e questo è un aspetto che non avevo considerato bene e perché adesso c'è vento in maniera consistente ora dobbiamo cambiare tipologia cosa dite del vento allora fischia quello non è buono il vento già un po meglio qua e il vento com'è sotto? il vento com'è passo? nel senso c'è vento in maniera consistente ora ci vuole un po più di gas ok noi siamo pronti? ok ok puoi saltare ok ok Eccolo, eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Eccolo